La donna e la gallina Cucote! Cucote! gridava ogni giorno una gallina puntualmente alla stessa ora La sua padrona, una donna avida, vendeva queste uova a una sua vicina e bisognosa di nutrimento a un prezzo esorbitante sostenendo che erano sempre fresche di giornata e che da nessun pollaio uscivano uova tanto grosse e sostanziose Un uovo al giorno però è poco, disse fra sé la donna Visto che la mia gallina è tanto brava, le darò doppia razione di gran turco e cicoria così mi farà due uova al giorno e ne ricaverò il doppio vendendole Accadde però che la gallina si rimpinzò troppo e diventò tanto grassa da non essere più capace di fare neppure quell'ovetto quotidiano che era sempre stato il vanto della sua padrona Qui calza bene il famoso proverbio Chi troppo vuole, la stringe